E come è sempre tradizione, non ce l'avete anche scritta su tavoli una delle poesie derivate al concorrenio, quella di stasera si intitola «Cecinesi, rieccoci!». Lo mise a dieta d'acqua e so' al dottore il cuore loventino, dal dolore rimase così tanto dispiaciuto che gli dovevano il cuore a mo' di gusto. Così per evitare più casino gli ha messo un ai passi al loventino che il dottore Ceraita controllasse ma non bisognerebbe mai fidarsi, l'hanno preso, l'hanno stragato sul lecchino e l'hanno sistemato per benino. Infatti si vede, 20 lini. Il gran vantaggio è che ovunque vada passando per qualsiasi autostrada, costiva i passi, non lo fan pagare, alzano le sbarre e lo fan passare gli asellanti gli fanno la rimerenza dicendo «Venga, si accomodi, eccellenza!». Mi disse «Mentre stavo dai dottori il letto che occupavo l'era 8, il Vilsaeta, poeta 6, volgare, mi tratta sempre male. Entrò e mi fai ridendo sotto sotto, quello di 7 sta parecchio male, e qua ti sembra sia dire il casino, lui hai 7, tu l'ho, il mio volino, vuol dire che stai per uno, trovo il Dio». Invece come va? Dove il Dio da Portano e il caeta dal San Gimigliano? E ora augurandovi un buon appetito con il sushi di casti, il torno, il rosini di burro e le fiamme d'inferno, la nostra sigla «Altre il Dio». Ho un pagato l'irte, le lilla e la sigla, vento, viva, vento, giochi, mi arrivo, ora piglio e faccio gallio e rapido, rius zanto sono bened creati, hismband manuscrati, più sforce più grande, hm? Il dote che arrivo, lo mio il fanno insieme, valley e infoscritto, via visto ne sono i servizi, prima la sua volta, viva, viva via sera fare il gucattolo, viva, viva cari, vo claccina, disappears, poi vivaese da il r했어. Più colorito tu per l'olio, con quel tuo farro pesco, tu di un po' rinvecchiato, rotondo e bene ambracolo, più giù sono l'olio rosso e l'olio, amore profumato Montalcino, delizioso Bartolino, versami un quartino. O forse è un corpo rosso, poi si udì uno schioppettino e lui si allarmò, poi ci fu addirittura un cannonau e lui volò via. Ti guardai, eri bella come una nosiola nel tuo abito col verdicchio, ancora oggi se ci penso il sangue mi rimolla, ah le dolci linee del tuo collio. Io invece non sono brutto, non sono certo prosecco, forse sono un po' troppo in carne e paio questa parropera lunga che mi dà questo sguardo così refosco. Ma quel giorno, quando io vivi la tua donna così in Francia orta, non resistenti e ti trocai. Sai, e tu altera, dicisti, non essere così un po' scoleparmi, io non si può prendere un piccetto e tu invece sei così barbarisco. E così ti ho perso. Mi hai lasciata per caldo, la stai o non crea di bufo e ti non parti come una malvasia. Ma ancora oggi ogni giorno non lo bello, io prego, sangio, pensi che tu ritorni da me. Mi sento tignanello, pigato, famino ed in bocca a un costo strano e amarone. Allora, Stelta, lei è famoso per essere lo scrittore vivente di tautogrammi. I tautogrammi sono una cosa cervellotica, sono quella cosa che incomincia tutto quel solito verso. Cioè, Roventino gli cominciò l'erreo e allora tutto deve cominciare. L'ultima giornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Avete inteso voi, fischi per fiaschi, non intendevo dire, esca nei maschi, rientrate tutti quanti. Voglio dire, sol che l'uccella ha preso, devo uscire. L'uccella ha preso, non intendevo dire, esca nei maschi, non intendevo dire, esca nei maschi, non intendevo dire, esca nei maschi. E' un'ottima giornata, non intendevo dire, esca nei maggi. Ja, da parte di tanto, se non periodo a organica dell'akè,may oy oy jugili. Grazie a tutti. Grazie a tutti.